83esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda San Domizio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Domizio. Il nome ha origine latina e significa mansueto. Accadde oggi. Il 23 marzo del 1987 viene trasmessa negli Stati Uniti la prima puntata della soap opera The Bold and the Beautiful, conosciuta in Italia semplicemente come Beautiful. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 23 marzo ricordiamo l'attore Ugo Tognazzi e il cantautore Franco Battiato. La citazione del giorno. Colui che lungamente medita non sempre sceglie la cosa migliore. Johann Wolfgang Goethe. Dice il saggio. Certe chiacchiere dramiche sembrano rose e sono ortiche. Il bel paese. A Roma in lungo Tevere Prati si trova una mostra molto particolare. È il Museo delle Anime del Purgatorio presso la Sagrestia della Chiesa del Sacro Cuore del Soffragio. Si tratta di un'esposizione di documenti e testimonianze che proverebbero l'esistenza del Purgatorio e delle anime di defunti che vi soggiornano in attesa di ascendere in paradiso. La collezione è conservata in un'unica sala e tra i reperti ci sono un libro di preghiere in cui si riconoscerebbe l'impronta di una mano impressa su una pagina, delle impronte infuocate su abiti talari e sulla camicia di Isabella Fornari, badessa di Todi, la federa di un cuscino impressa a fuoco dall'anima di una suora morta di Tisi nel 1894 e altre reliquie, tra cui le tracce lasciate dal passaggio di una donna defunta sul berretto del vedovo. Grazie a tutti.